La Podgygym.netto Avellino ha eseguito il consueto video allenamento del fine settimana e con grande sorpresa ha visto la partecipazione del campione del mondo di sciabola Luca Curatoli che ha voluto partecipare a tutta la sessione apprezzando e condividendo i metodi della scuola erpina ed ha dispensato consigli e suggerimenti ai piccoli schermitori. È stata una lezione gestita in modo insolito, programmata ma anche improvvisata con la professionalità del nostro istruttore Francesco Luongo nonché della presenza della nostra psicologa Rossella Lepore che ha monitorato tutto l'allenamento. Ognuno di noi ha potuto interagire con il grande campione Luca Curatoli, afferma Carmelo Alvino, altro punto fermo della società. I nostri allievi hanno posto domande tecniche ed anche personali, ottenendo anche una promessa dal campione, ovvero quella di rivedersi quando gli allenamenti torneranno alla normalità nella nostra palestra. Ancora sorprese nuovi stimoli per i prossimi video allenamenti della Podgygym.netto Avellino. Infatti stasera la lezione di Chiara del Presidente Aldino sarà effettuata addirittura dal grande maestro internazionale Alberto Coltorti, che sicuramente con il suo carisma riuscirà a coinvolgere tutti i ragazzi.